In questa parte della lezione andremo a vedere gli aspetti più pratici relativi all'organizzazione del corso, quindi come si svolgono le attività didattiche all'interno del corso di quest'anno. Come vi avevo già accennato in aula, tutte le informazioni che vi possono servire sono a partire da questo sito, di cui trovate il link, all'interno del quale ci sono le varie sezioni che contengono sia informazioni introduttive, sia il link a tutto quello che è il materiale di studio di cui avrete bisogno. Quindi le slide essenzialmente del corso e le video lezioni che via via, diciamo così, verranno caricate insieme agli esercizi in aula, gli esercizi in laboratorio e così via. Dopodiché nella sezione calendario avremo settimana dopo settimana le varie lezioni e a fianco di ciascuna avremo il materiale didattico e le video lezioni che via via saranno registrate. Così come per gli esercizi in laboratorio ci sono i testi e le soluzioni di laboratorio su questo link dove potete trovare tutto il materiale. Quindi essenzialmente il punto di riferimento di tutte le informazioni, materiale da scaricare, così come il calendario delle lezioni passate e future, lo trovate su questo sito, che è il punto di partenza. Come dicevamo il corso è fatto da una parte di programmazione, in particolare la programmazione nel linguaggio Python e una piccola parte, diciamo così, stimabile in 9-10 ore di invece teoria sull'informatica. E nella programmazione essenzialmente è compreso la parte di problem solving, quindi non tanto scrivere il programma ma quanto ragionare sul programma stesso, come abbiamo visto nell'artizio che abbiamo appena fatto in aula. La parte più importante anche del corso è la parte di laboratorio nella quale possiamo andare insieme a mettere in pratica, provare a mettere in pratica ciò che abbiamo preso nella parte iniziale. Il corso complessivamente dà 8 crediti, quindi sono 80 ore che passeremo insieme. Il materiale didattico è molto, quello che già vi metteremo a disposizione, molto quello che si trova su internet, ma chi trovasse diciamo così comodo studiare o ripassare in un modo diverso le stesse argomenti su un libro, ecco noi suggeriamo questo testo, in realtà ce ne sono due versioni, una è una versione un pochino più ampliata, quella di sinistra, mentre quella di destra è una versione ridotta, che contiene solamente i capitoli che servono a questo corso. Gli argomenti del corso sono sequenzializzati come ordine sui capitoli di questo libro qua, quindi diciamo i due vanno avanti in parallelo e vedrete lungo le slide di lezione molto spesso il riferimento al capitolo, al sottocapitolo del libro di Osman Nakey che abbiamo adottato come libro di testo. Quindi chi lo desidera può fare riferimento a questi due testi come supporto allo studio aggiuntivo a quello che sono le lezioni, a quello che sono le slide, a quello che potete trovare comunque su internet. Qui sulla slide, diciamo così scaricata, trovate tutti i riferimenti, compresi il codice per poterlo identificare ed eventualmente ordinare. Poi ovviamente ci sono, questo è il libro in lingua inglese, da cui sono tratte le lezioni italiane che abbiamo visto prima, questo è soprattutto pensato per gli studenti della corte in inglese, oppure per chi volesse, avesse piacere di leggere la versione originale. È lo stesso testo, chiaramente in tradizioni diverse. Ma poi ovviamente se cercate Python trovate veramente migliaia di testi di riferimento, molti dei quali, diciamo così, possono andare bene, ma soprattutto dei siti web su cui ci sono magari di buone informazioni, di buoni tutorial. In particolare noi ci concentreremo sul sito ufficiale di Python, il sito python.org, che ha tutta una parte di documentazione, sia documentazione di riferimento che tutorial. Adesso quando entreremo nel vivo vedremo di esplorare anche questa parte. E poi quello che io segnalo è questo sito RealPython, che contiene molti tutorial o video, spiegazioni, sia video che testo, che trovo normalmente ben fatti, c'è un'ampia parte anche gratuita. Non sono tutti gratuiti, ma un'ampia parte gratuita. Però veramente il Python è un argomento su cui ci sono risorse in modo praticamente amplissimo. In più avremo degli strumenti, perché non basta solo leggere e studiare, ma anche sperimentare, provare, programmare. Attraverso questo, come abbiamo accennato, avremo l'ambiente di sviluppo, che è Visual Studio Code, che dovremo installare, ci sono le versioni per Windows, per Mac e per Linux, quindi è facile da installare. Oppure, per chi volesse, c'è anche il cosiddetto PyCharm, che è un altro prodotto un po' più complesso, un pochino più pesante, un pochino più professionale, in certo senso, per chi eventualmente avesse delle necessità più evolute rispetto a quelle che ci può fornire Visual Studio Code. Ma US Code lo useremo nel corso, per tutto il corso useremo Visual Studio Code, e anche all'esame ci sarà esattamente Visual Studio Code nel quale potremo programmare, quindi è l'oggetto principale del nostro corso. E poi vedremo che c'è un sito web, che si chiama pythontutor.com, che useremo spesso durante le lezioni, che ci aiuta a visualizzare, diciamo così, l'interno di che cosa succede all'interno del programma, visualizzare le strutture dati, i valori, eccetera, ci aiuta a capire, effettivamente, cosa succede quando eseguiamo un programma. Lo useremo molto didatticamente, e vi consiglio anche di usarlo quando avete dei dubbi su come una certa cosa può funzionare. Nella documentazione trovate anche delle brevi istruzioni di installazione, ma di fatto noi dobbiamo pensare che dobbiamo installare il linguaggio Python e Visual Studio Code, e null'altro all'interno del corso, qui trovate delle indicazioni passo passo, che però non sono particolarmente complesse. Visual Studio Code è fatto così, l'abbiamo visto all'opera in aula, dove c'è una finestra, diciamo così, principale, dove scriviamo il codice, c'è una finestra in basso dove il programma viene eseguito, e ci sono le finestre sulla sinistra che vengono usate o per vedere l'elenco dei file, oppure per vedere in modalità debug il valore delle variabili, diciamo così, che assumono all'interno dell'evoluzione del programma. Questo strumento via via impareremo a usare prima in modo più semplice e poi via via in modo più sofisticato, perché poi è il nostro strumento di lavoro, il nostro compagno che ci aiuterà a scrivere prima di tutto e poi verificare i programmi che andiamo a creare. Andando più sul pratico, le lezioni sono organizzate con questo orario settimanale, che conosciamo, abbiamo già visto, già pubblicato, abbiamo le tre ore, diciamo, indicate qua in azzurro, i tre slot indicati in azzurro, che sono lezione barra esercitazione misti, non facciamo, come in altri corsi, invece una separazione tra ore di lezione e ore di esercitazione, perché di fatto vedremo che non appena introduciamo un argomento nuovo lo mettiamo subito in pratica con degli esercizi e spesso, magari facendo gli esercizi, impariamo qualcosa di nuovo dal punto di vista teorico, quindi veramente le due cose in campo di informatica non sono scindibili, quindi sono un tutt'uno. Sono le ore di lezione e di esercitazione che svolgeremo soprattutto il sottoscritto e Roberto Bardini. E poi ci sono le ore di laboratorio, le ore di laboratorio che sono divise in tre squadre, quindi voi vedete tre slot qui indicati in verde come laboratorio, in realtà ciascuno di voi avrà un solo slot perché, visto la numerosità, siamo divisi in tre gruppi di squadre sulla base di una divisione alfabetica. Quindi il laboratorio, partiamo da qui, è la parte più importante del corso, non mi stufferò mai di ripeterlo perché è la parte nella quale voi siete voi davanti a un problema, davanti a un computer e cercate di fare in modo che il computer risolva il problema. Potete stare a guardare gli altri, risolvere i problemi per tutta la vita, ma fino a quando non ci provate voi in prima persona è come se non lo faceste. Quindi, se dovete risparmiare tempo da qualche parte, fatelo, ma non risparmiate tempo sui laboratori perché è la parte che veramente vi aiuta a prepararvi, passare all'esame, ma capire soprattutto di che cosa si tratta nel campo dell'informatica. Dicevo che il laboratorio diviso in tre squadre inizia la seconda settimana, quindi questa settimana non ci sono ancora laboratori, la seconda settimana inizierà dal mercoledì e il giovedì della prossima settimana, quindi il 2-3 ottobre dell'anno prossimo. I testi del laboratorio sono pubblicati sul sito del corso e nelle aule in cui si svolge il laboratorio ci sono già dei personal computer che potete andare, ha già tutto installato sopra, potete andare a programmare. Se invece volete anche magari prepararvi prima oppure continuare dopo l'esercizio sul vostro computer, ricordatevi che dovete installare l'interprete Python e Visual Studio Code per poter lavorare. La divisione alfabetica in squadre non l'ho ancora scritta, vedete che in questa slide ci sono tutte le X, perché sto aspettando che alcuni si devono ancora riscrivere e quindi dobbiamo avere un numero un pochino più consolidato di persone. Ma verso la fine della settimana gli pubblicherò la divisione in squadre e così ciascuno sa esattamente in quale orario deve andare. Squadra 1, squadra 2 e squadra 3, vedete che la squadra 1 e i due saranno rispettivamente l'inizio e la fine dell'alfabeto e la squadra 3 saranno coloro che stanno a metà dell'alfabeto. È una divisione un po' strana perché si va a incastrare con le squadre di esercizio azione che avete già di analisi e chimica che sono in parte sovrapposte, ma mentre le analisi e chimiche sono divise in due squadre, qui noi siamo divisi in tre per potervi seguire meglio e la terza squadra come cognomi va a cavallo tra la coda della prima squadra e l'inizio della seconda squadra di matematica. Ma a parte tutto questo ragionamento avrete poi essenzialmente i rangi di cognomi che vi dicono esattamente in quale squadra sarete e quindi qual è poi lo slot settimanale che dovete dedicare al laboratorio. E questo ci serve per cominciare a prendere un ritmo, un ritmo settimanale delle lezioni essenzialmente. In cui ogni settimana queste sbarre indicano grossomodo il cadenzamento delle settimane, la settimana iesima generica contiene essenzialmente le ore di laboratorio in cui ci sono soprattutto il lavoro individuale sugli esercizi. Gli esercizi da svolgere in questa settimana verranno pubblicati normalmente entro il venerdì precedente sul sito del corso. Quindi il laboratorio ce l'abbiamo il mercoledì, già dal venerdì precedente potete, vi suggeriamo, di cominciare a guardare il testo, cominciare a pensarci, magari provare a risolvere. Ci sono molti esercizi, non tutti si potranno fare, questo è chiaro, non tutti si potranno fare nelle ore di laboratorio. Cominciate a guardare qualcuno, a farne qualcuno. In modo da arrivare al laboratorio, diciamo, già preparati e magari con già delle domande da fare, perché avete già provato a fare qualcosa e non ci siete riusciti oppure avete avuto dei dubbi. Quindi questo è il nostro consiglio, essenzialmente, cominciare a dare un'occhiata al laboratorio della settimana successiva il venerdì della settimana precedente. L'esercizio di un laboratorio di solito sono sempre sugli argomenti della settimana precedente, mai della settimana in corso. Quindi noi abbiamo lezioni lunedì e mercoledì, i laboratori mercoledì e giovedì, ma gli esercizi mercoledì e giovedì sono sugli argomenti che abbiamo fatto il lunedì e mercoledì della settimana precedente, in modo da darvi tempo anche di sedimentare le cose fatte. E dopo un po', dopo qualche giorno, vedete una freccia, verranno poi pubblicate proposte delle soluzioni agli esercizi del laboratorio. Quindi in realtà se andate a guardare questo materiale, sia i testi che le soluzioni, già ci sono, perché i laboratori sono lo stesso dell'anno scorso, però questa è un po' la cadenza che vi chiediamo di seguire. L'idea è non guardate le soluzioni agli esercizi prima di averci provato a risolverli, e quindi prima almeno di far passare 8-10 giorni in cui ci avete provato, ragionato, eccetera. Perché guardare una soluzione fatta da qualcun altro, a zero, diciamo così, la capacità di apprendimento, la possibilità di apprendimento. In aggiunta, c'è tutta una serie di strumenti che cerchiamo di mettervi a disposizione, oltre alle lezioni in aula e in registrato online, e ai laboratori in laboratorio in cui non c'è registrazione online, perché lì siete voi che lavorate, non c'è nulla di nuovo che viene spiegato in quei casi, ma poi ci sono delle possibilità in più per aiutarvi nel seguire il corso. Una è quella dei tutorati, abbiamo dei tutor che pubblicheranno, che sono studenti degli anni scorsi, studenti un pochino più grandi di voi, che sono a disposizione vostra, di solito tutti i giorni, l'anno scorso abbiamo fatto un calendario in cui tutti i giorni c'erano tre ore di tutorato, in orari diversi, alcuni in presenza, in qualche aula, alcuni online, alcuni in italiano, alcuni in inglese, in modo da poter dare, diciamo così, l'offerta più ampia possibile. Il mio suggerimento molto forte è sfruttate i tutorati, a volte sono sotto utilizzati, non c'è molta gente che ci va, ma veramente quando avete un dubbio, quando volete confrontarvi con l'esercizio che avete fatto, o chiedere a questo tutor come si risolve un certo problema, non abbiate problemi, recatevi, spesso i tutorati, i tutor, o rispondono alle domande che gli fate, oppure risolvono loro l'esercizio che viene proposto nel laboratorio della settimana precedente, quindi è un modo anche per avere un confronto su questi argomenti. Per i tutorati stiamo creando quest'anno un canale Telegram, è un canale, non è un gruppo, quindi potete solamente leggere, nel quale verrà pubblicato il calendario, verrà pubblicato i vari avvisi relativi a questo servizio di tutorato. Ricordatevelo che esiste, è indipendente da lezioni, i tutor sono indipendenti dei professori, sono trasversali, lo stesso tutor segue più corsi, quindi potete veramente avere anche un punto di vista diverso, è un modo diverso di sentirsi spiegare le cose. Mentre invece, per quanto riguarda le comunicazioni dirette con me, con il nostro corso, all'interno del nostro corso, come vi ho già sollecitato più volte, sia attraverso gli avvisi sia in aula, abbiamo chiaramente questo canale Telegram, in cui ho scritto che è obbligatorio di iscriversi, perché è il canale in cui io manderò tutte le informazioni, le informazioni, gli avvisi, le altre, diciamo così, materiale didattico, il link, eccetera, e voi stessi potrete fare ovviamente domande su questo canale a vostro piacimento, in qualunque momento. Useremo il canale Telegram e non useremo mai la mail, quindi l'email ne riceverete moltissime sulla vostra mail del Politecnico come studenti, quindi per non andare in tasare o perdere un messaggio, tutte le comunicazioni da me verso di voi e da voi verso di me, chiederei che venissero fatte esclusivamente attraverso questo canale, ok? A cui potete, spero vi siate già iscritti tutti. Altro tema organizzativo importante è quello dell'esame, come si svolge l'esame? Allora, l'esame è composto da due parti, una parte di teoria, che è composta da tre domandine, domandine, tre domande brevi, che valgono sei punti complessivamente, quindi due punti per domanda, una domanda a due punti, l'altra a due punti, l'altra a due punti, da zero a due punti, non ci sono punteggi negativi, dalle nostre parti. E poi c'è un esercizio di programmazione più lungo, che vale 26 punti, quindi 26 più 6, vedete che fa un pelino più di 30, e questo vi dà un pochino di margine, anche di lavoro. L'esame dura un'ora e mezza, 90 minuti consecutive, vi potete gestire questi 90 minuti come volete, tra la parte di programmazione e la parte di teoria, quindi non c'è tempo condigentato per rispondere alla teoria, potete farlo prima o dopo. Gli esempi di domande, esempi di programme ne trovate a dozzine, in questo sito, dove ho raccolto tutti praticamente le domande di teoria e tutti gli esercizi di programmazione negli ultimi tre anni di corso, quindi veramente avete una quantità sterminata di temi di esame su cui potervi esercitare. L'esercizio di programmazione dovrà essere svolto al calcolatore computer, implementando il programma e possibilmente facendolo funzionare. Quindi non è un esercizio su carta, non è un esercizio teorico, ma effettivamente è un esercizio di sviluppo, e all'esame avrete una configurazione particolare di Visual Studio Code, dico particolare, perché non gira sul computer di laboratorio per evitare copiature, o chiavette, USB o altro, gira in un ambiente protetto, ma esattamente lo stesso Visual Studio Code che usate normalmente durante l'anno. e ciò che scriverete verrà automaticamente consegnato e noi andremo a correggerlo. Qui c'è scritto corretto manualmente, quindi non andiamo a vedere solamente se funziona o non funziona, ma anche come l'avete scritto. È chiaro che se funziona è meglio, ma può anche darsi che non funziona perché c'è qualche errore, ma noi andiamo comunque a valutare di che entità sia l'errore, quindi non è una valutazione on-off, ma una valutazione nel merito del programma che avete fatto. Ma non vi preoccupate perché la tipologia di esercizi che troverete all'esame di programmazione è analoga a quella che troverete negli ultimi laboratori, i primi sono semplicissimi, ma poi via via che andiamo avanti ci avviciniamo sempre più alla tipologia di esercizi che troverete all'esame, e poi in particolare nelle ultime due settimane del corso faremo solo temi d'esame. Le settimane saranno dedicate a fare solo esercizi presi dall'esame dell'anno scorso, così vi rendete anche conto del tipo di difficoltà, del tempo che ci mettete, un po' anche dell'approccio a come affrontare l'esercizio d'esame che di solito è un pochino più ampio come ragionamento rispetto all'esercizio di laboratorio che visto che il tempo è molto più breve in laboratorio dobbiamo già darvi istruzioni un pochino più precise. All'esame magari vi chiediamo di pensare a qualcosa in più. Però indicativamente sulle 14 settimane del corso alla dodicesima settimana abbiamo finito il programma e le ultime due le usiamo esclusivamente per la preparazione all'esame e in particolare alla parte di programmazione dell'esame. E quindi cosa ci serve per passare l'esame direi per passarlo bene con un bel vuoto? Innanzitutto questo è un esame di logica. Mi serve ragionare con calma ragionare in modo approfondito in modo logico e capire e ragionare sui processi risolutivi quello che in gergo si dice problem solving cioè di fronte a un problema quali sono i passaggi che mi servono per risolverlo. Questa è la parte diciamo così più importante del corso non è tanto l'istruzione del linguaggio quella che vedete si imparano in fretta. E come faccio ad arrivare ad acquisire questa capacità? Secondo me facendo esercizi. Sì io mi spiego le cose cerco di farvele capire cerchiamo di fare cose insieme ma soprattutto siete voi che a un certo punto quando tornate a casa dovete mettervi di fronte ad un esercizio anche quelli che sembrano facili delle prime settimane e dici vabbè adesso provo a farlo sì mi sembra facile ho capito mi sembra di aver capito ma dopo di che quando provi e fai funzionare le cose ti accoggi se hai capito davvero oppure no. E questo vi dico fatelo da subito anche sugli esercizi stupidi provate a farlo da soli poi si può anche fare in gruppo ma se vi mettete in gruppo non mettetevi con qualcuno o qualcuna che sia tanto più bravo di voi perché altrimenti fanno loro voi guardate credete di aver capito e poi quando sarete poi a confrontarvi voi stessi con l'esercizio non sapete da che parte iniziare essenzialmente. Quindi questo è un corso che si prepara nel tempo via via digerendo i vari tipologi di esercizi le varie difficoltà che via via affronteremo prenderemo aggiungeremo e questi esercizi li facciamo su computer perché è solo il computer che ci può dire se ciò che abbiamo scritto funziona o no quindi no su carta lo guardo sembra bello ma finché è su carta è sempre tutto giusto o meglio mi convinco che sia giusto quando lo metto a computer vedo se effettivamente funziona oppure no. E una volta che avete provato a risolvere un esercizio con dei dati che vi diamo già di prova provate a cambiare i dati provate a vedere se il programma funziona in casi diversi provate magari a cambiare il programma il programma chiedeva una cosa ma se invece io volessi fatevi queste domande queste piccole variazioni sul tema no giocateci un po' e così vedete che acquisite subito la padronanza di poter vedere lo stesso problema in modi diversi da sfumature diverse ed è quello che vi serve poi poter generalizzare il ragionamento e poter affrontare diciamo qualunque tipo di problema no quindi alcuni di voi troveranno questo processo molto intuitivo perché magari hanno già in modo innato mi verrebbe da dire questo tipo di capacità di logica di analitica e di progettualità altri potranno magari faticare un po' di più non è un problema il tempo c'è per tutti il corso diciamo così si dura un intero semestre non abbandonatelo nel senso che non scoraggiatevi le prime difficoltà le prime settimane sembrano molto facili ma non prendetelo sotto gamba perché appunto la complessità a un certo punto aumenterà di colpo chi ha maggiore difficoltà si faccia vivo chi ha difficoltà risolve un esercizio la cosa peggiore che può fare è andare da un amico e dire mi fai l'esercizio oppure aspettare che noi pubblichiamo la soluzione o guardare la nostra soluzione e dire ma guarda che il mio esercizio è diverso dalla soluzione che mi hai dato va bene il problema non è tanto vedere la soluzione fatta da qualcun altro o farsi diciamo così aiutare nel fare la soluzione da qualcuno è capire io dove mi sto bloccando nel mio programma nel mio tentativo di soluzione e allora quello che vi diremo mille volte vi diranno sempre il laboratorio quando farete una domanda guardiamo insieme il tuo codice e capiamo insieme dove sei bloccato quale difficoltà stai avendo che cosa magari non hai capito o hai impostato al rovescio quindi anche quando farete domande su telegram non mi viene questo esercizio la mia risposta sarà sempre mandami il codice che lo guardiamo mandalo sul gruppo lo guardiamo e allora vediamo dove si è bloccato diciamo così l'implementazione del programma e che ovviamente indice magari un problema nella comprensione di alcuni concetti questo è un percorso che possiamo fare solo insieme con la vostra collaborazione ho provato non ci riesco mi sono bloccato qua ok perfetto guardiamolo se io vi dicessi no guarda si fa così si risolve in questo modo a parte che mentirei perché un programma non si risolve in un modo ma si può risolvere in mille modi diversi ma poi non vi aiuterei per la volta successiva a riuscire a capire l'ostacolo e andare oltre quindi questa è veramente la dovessi fare una raccomandazione in tutto il corso provate a fare esercizi e se non vengono venite da me scrivete su telegram andate al tutorato trovatevi con amici ma amici veri non quelli che vi danno la soluzione quelli che vi aiutano a trovarla così vedrete che all'esame poi sarà diciamo così ordinare amministrazione un esercizio come quelli del laboratorio per aiutarvi a rimanere diciamo così sintonizzati sul corso quindi anche avere poi un feedback sul fatto che vi stiate preparando correttamente oppure no da quest'anno così come già succede negli altri corsi stiamo sperimentando una forma di accertamento intermedio cioè una prova intermedia a metà corso ok è il primo anno che lo facciamo negli anni scorsi non lo facevamo l'idea qual è? l'idea è che verso fine novembre quindi quando saremo a due terzi del corso quindi dove gli argomenti più importanti le basi le abbiamo già fondate useremo una settimana dei laboratori non per fare laboratorio ma per fare un accertamento l'accertamento che cos'è? è un piccolo test in cui troverete quattro domande quattro esercizietti di questi quattro esercizietti tre sono analoghi alle domande di teoria del compito d'esame dello stesso tipo uno è nel esercizietto di python un pochino più complesso più semplice di quelli di laboratorio e più complesso delle domande di teoria allora come funziona questa prova? voi dovete rispondere a queste quattro domande probabilmente in un tempo limitato circa mezz'ora qualcosa di questo genere perché poi lo faremo nell'ordine di laboratorio questo test e quindi ci dovremo dividere a gruppetti più piccoli per poterci diciamo così star tutti rispondete a queste quattro domande le prime tre domande noi le correggiamo e vi diamo un voto sulle prime tre domande diamo un punteggio di due punti ciascuna e questo è un punteggio che può valere fino a sei punti questi sei punti delle prime tre domande li potete usare se volete all'esame cosa significa? significa che all'esame delle tre domande di teoria che valgono sei punti se avete nella prova intermedia fatto un punteggio che vi soddisfa avete preso 5 avete preso 6 all'esame potete non rispondere alle domande di teoria e noi terremo buono il punteggio che avete preso nella prova intermedia alla fine cosa succede? succede che nei 90 minuti di esame se fate così avete più tempo per fare il programma che è la parte più difficile se invece nella prova intermedia avete preso un punteggio scarsino magari solo di due punti vuol dire uno che a novembre sapete che dovete studiare un po' di più la teoria e due nessun problema all'esame farete anche quelle domande quindi diciamo così il vantaggio per chi fa la prova intermedia e riesce a prendere un buon punteggio è che all'esame avrà più tempo per l'esercito di programmazione quindi avrà 90 minuti interi per l'esercizio di programmazione poi sempre nella prova intermedia ci sarà un esercizio di python quello che è chiamato qua con la lettera B che è un esercizietto simile a quello dei laboratori abbastanza breve perché deve essere risolto in poco tempo e anche questo viene corretto e porterà a dei punti bonus da 0 a 3 punti quindi se fate questo esercizio B allora ci saranno dei punti che si sommeranno al voto finale che prenderete ok quindi questo esercizio di python sarà analogo agli esercizi di laboratori che faremo in quelle settimane lì quindi se riuscite a fare questo vuol dire in un certo senso che siete riusciti a rimanere al passo con le lezioni al passo con gli argomenti del corso a fine novembre tenete presente che la fine novembre mancheranno 4 settimane alla fine del corso quindi mancherà poi solo più il rush finale sugli ultimi argomenti ma le basi diciamo così le avrete avete la conferma che avete delle buone basi e in più magari vi mettete in saccoccia 3 punti che possono sempre far comodo all'esame questa prova intermedia si farà una volta sola prendete il voto che prendete nel senso che non si può rifare riprovare altro e il voto che prendete vale per i 4 appelli quindi per gli appelli di gennaio febbraio giugno e settembre dell'anno accademico 2024-2025 quindi quando verrete a fare l'esame potrete diciamo così avrete quel bonus che avete acquisito da 0 a 3 punti per l'esercizio di python e potrete usare questo dipende da voi potrete usare i 6 punti o i punti che avete preso nelle domande in teoria poi più avanti vi daremo indicazioni l'auda l'orario come fare se sarà su carta o su computer ma sono dettagli che adesso non ci interessano è uno strumento che noi usiamo per aiutarvi come ho detto prima a rimanere sintonizzati sul corso a non perdervi avere un feedback e avere anche una motivazione in più anche tangibile in termini di punteggio per continuare a seguire i laboratori fare i laboratori e così arrivare diciamo così a fine anno non a fine del corso ma a fine dell'anno solare avendo già una buona preparazione in vista dell'esame questo essenzialmente è quanto volevo raccontarvi in termini di aspetti pratici dell'organizzazione del corso per qualsiasi altra cosa qui ci sono i nostri contatti ma ovviamente i veri contatti la vera comunicazione ce l'avremo sempre attraverso il sito web che abbiamo visto prima polito informatica e scusate e sul gruppo telegram dove potremo sempre rimanere in contatto la regola è voi scrivete quando volete noi rispondiamo quando possiamo quindi non c'è nessun problema di orari cerchiamo chiaramente di leggere tutte le vostre domande e dare risposta a tutte le vostre esigenze finita la parte introduttiva dalla prossima lezione ci tuffiamo chiaramente negli argomenti del corso di leggere di leggere di leggere